Allora, tra le tante iniziative a favore delle popolazioni terremotate non è voluto venire meno anche il vostro comune. Cosa avete organizzato? Sabato 8 ottobre a Calcinelli abbiamo organizzato una tumbola di beneficenza il cui ricavato è stato dato alla scuola di Arquata del Tronto. È stata un'iniziativa organizzata dal Comune di Saltara con il contributo dell'Istituto Compressivo Leopardi, del nostro gruppo di protezione civile, Bocciofi e la Metaorense e con il contributo di tutte le associazioni, ditte e commercianti locali. A questa iniziativa c'è stata una partecipazione massiva di gente, più di 450 persone, molti alunni, un ringraziamento ai docenti dell'Istituto Compressivo Leopardi che sono andati da fare per vendere i biglietti. Abbiamo alla fine fatto un buon ricavato, il ricavato finale è stato di 5.600 euro e 60 centesimi che in questi giorni verranno mandati tramite modifico all'Istituto Compressivo di Arquata del Tronto. La Preside ha mandato una lettera di ringraziamento, lettera dallo speaker nella serata, in cui ci ringrazia per la nostra iniziativa, per la solidarietà rivolta nei loro confronti e per questa bella iniziativa. Voi siete stati presenti anche in quel Comune come gruppo di protezione civile? Sì, siamo stati dopo il 24 agosto, siamo stati sul campo tre volte in tre turni diversi, grazie anche all'amministrazione comunale che ci ha consegnato un mezzo per un fuoristrada 4x4 per recarci nelle zone terremotate. Quindi abbiamo visto anche personalmente i nostri volontari la sofferenza di queste persone ma anche la voglia di ripartire subito e di ricominciare. Grazie a tutti.